Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera il bilancio preventivo 2016. Non sono mancate naturalmente le critiche a questa stesura, ma il sindaco, a chi lo accusava di aver tagliato il sociale, respinge al mittente. Pesaro, dice Seri, con 30.000 abitanti in più, ha capitoli in bilancio con la stessa spesa per il sociale di Fano. Non abbiamo toccato assolutamente la leva fiscale, abbiamo mantenuto tutti i servizi, abbiamo dovuto giocare sui risparmi, abbiamo rivisto tutta una serie di costi e di spese che avevamo anche all'interno dell'amministrazione, cosa che in passato non era mai stata fatta. Abbiamo deciso di attingere meno utili dalle nostre società partecipate, per cui posso dire che è un buon bilancio, sapendo che comunque ci sono delle partite che devono essere rimpinguate e nel corso dei mesi continuerà il lavoro cercando di trovare anche altre risorse per poter rinserire su alcuni capitoli. Sul sociale ci sono state tante polemiche, è chiaro, rispetto allo scorso anno ci sono meno risorse, però abbiamo garantito tutti i servizi. Le rette, ho sentito tante chiacchiere, ma sono inesatte, sono state minimamente toccate, quindi sono rimaste uguali. Con la differenza che vengono usati i parametri ISEE, significa che qualcuno potrebbe pagare qualcosa in più e qualcuno pagare qualcosa in meno in base ai redditi. Su 5 milioni di spesa per il sociale, 3 milioni le mettiamo dalle risorse di questo bilancio. Lo scorso anno, a fronte di tagli altissimi, questo Comune ha rimesso 1 milione 100 mila euro dalle risorse, quindi prese da altri capitoli, per garantire il sociale. Sforzi come questi non hanno precedenti. Poi è facile parlare quando i bilanci erano di 80 milioni, oggi siamo scesi sotto i 60 milioni. Mi sono preso poi alcuni impegni in Consiglio Comunale, tra cui quello di rimpinguare, di aumentare le risorse destinate per il fondo anticrisis, per tutte quelle famiglie che sono in difficoltà. È stato un lavoro che non è iniziato solo in questi ultimi mesi, ma un lavoro iniziato da domenica 15 per quanto riguarda il controllo di tutte le spese, sia spese correnti e cercare anche di fare investimenti per le spese in conto capitale. Nelle spese correnti abbiamo cercato intanto, è iniziato con i risparmi anche degli affitti, altre rivisitazioni abbiamo fatto nell'economato, abbiamo fatto. Inoltre il primo cittadino ha voluto specificare il capitolo dedicato alle entrate derivate dalle contravenzioni della Polizia Locale, rispondendo a chi lo ha accusato di voler far cassa con le multe. Noi installeremo telecamere concordate con la prefettura e le forze dell'ordine in alcuni punti della città, a cominciare dal ponte Metauro che controlleranno entrate e uscite della città. È chiaro che queste telecamere sono di alta tecnologia, che fanno anche altre funzioni, tra cui quella della verifica, leggendo anche le targhe fanno una verifica se non ci sono stati collaudi, se non ci sono i bolli in regola, su tutta una serie di questioni che prima magari non si verificavano, per cui anche quello può portare delle maggiori entrate.